Rocco Acocella, un giovane skipper salernitano, è disperso nel Mar dei Caraibi dal 29 giugno. Il 32enne era salpato con un trimarano da un'isola delle Antille francesi lo scorso 17 giugno. L'arrivo al porto di Barranchiglia in Colombia era previsto per il 28 o il 29 giugno. Lì avrebbe dovuto fare da guida ad un gruppo di turisti. Allertate le autorità competenti, tra cui l'unità di crisi della Farnesina. C'è una massima attenzione sia istituzionale che personale perché il nostro concittadino che ha questa grande sensibilità verso la natura perché ha fatto una scelta di vita lui e la compagna trasferendo un'imbarcazione da San Martin doveva giungere in Colombia non è mai giunta. Era atteso per il 29 giugno, purtroppo non si hanno più notizie di lui né visive ma né il GPS né la radio riesce a raggiungerlo. È disperso nel mar dei Caraibi, non come inizialmente era stato detto nell'oceano. Quindi si sta facendo di tutto per cercare. I soccorsi sono stati ovviamente attivati e stanno facendo un grande lavoro. La preoccupazione è molta e noi speriamo vivamente che ci possa essere un lieto fine. Purtroppo le insidie del mare sono tante ma è anche vero che Acocella era un navigatore esperto.